Oroscopo del giorno. Lunedì, 15 aprile, 2019. Ariete. Amore. Sarete molto comunicativi, e aperti al dialogo, date quindi la priorità alle situazioni del cuore, per portare chiarezza, e armonia. Il partner vi reclama. I single, riceveranno gli stimoli adeguati per svegliare il loro interesse, ma solo di testa, e non di cuore. Lavoro. La vostra lucidità e prontezza mentale, vi consentirà di portare avanti le relazioni lavorative nel migliore dei modi. Toro. Amore. Sarete molto sensuali, e passionali, ma le emozioni saranno incerte, e altelenanti. Gemelli. Nel vostro cuore forse c'è un po' di tempesta, cercate di dominarla. I cuori solitari forse si renderanno conto, che i sentimenti verso un ex non sono tramontati. Lavoro. Nel lavoro godrete al massimo dei favori astrali, quindi, potrebbe essere un periodo favorevole, per mettere in cantiere nuovi progetti. Gemelli. Amore. Alcuni imprevisti, vi impediranno di valutare serenamente le vostre emozioni, e forse, vedrete tutto un po' più nero riguardo al vostro rapporto. Cercate di essere più ottimisti. I single avranno tante occasioni, per trascorrere questa giornata serenamente. Lavoro. Dovrete lottare, e impegnarvi, per difendere i vostri progetti e portarli avanti, nonostante tutto. Cancro. Amore. Insoddisfazione e tensione nervosa, vi impediranno di vivere con tranquillità l'amore. State attraversando una fase di cambiamenti, che vi porteranno alla scoperta di un modo diverso di vivere la vita. I single avranno bisogno di tempo, per adattarsi ad una nuova situazione. Lavoro. Qualche tensione nell'ambiente lavorativo potrebbe essere inevitabile. Evitate lo scontro, per non perdere il favore dei superiori. Leone. Amore. Giorno speciale per l'amore, vi sentirete al settimo cielo, e la complicità con la persona amata sarà tale, da accelerare i progetti per il futuro. Sono in vista convivenze, e matrimoni. Se siete single, e avete un sogno nel cassetto, cercate di realizzarlo. Lavoro. Il rischio di tensioni e battibecchi in ambito lavorativo è alto, meglio evitare, per svolgere serenamente le proprie mansioni. Virgine. Amore. Con venere e marte a vostro favore, cuore e sensi viaggeranno sintonizzati, in direzione della felicità, e della pagamento. Recupererete fiducia in voi stessi. I single, potranno provare sensazioni profonde, e intense, dalle quali non vorrebbero svegliarsi. Lavoro. Oggi sapete dove dirigervi, e soprattutto quale strategia applicare, per raggiungere i vostri obiettivi. Bilancia. Amore. Splendida giornata per l'amore, e per l'erotismo, riuscirete ad esprimere con sicurezza le vostre esigenze. Ad aprirvi all'amore e alla passione, senza incertezze. I single entreranno in contatto con le loro emozioni, e accetteranno le mille sfumature di un sentimento. Lavoro. Ottime prospettive per la carriera, le vostre intenzioni saranno chiare, e la vostra capacità d'impegno sarà al massimo. Scorpione. Amore. Forse la situazione non sarà esattamente quella desiderata, ma cercate di trarre piacere, dalle cose che già avete. La forza dell'amore vi aiuterà a superare qualsiasi ostacolo. Le emozioni torneranno a vibrare per i single sottolineatura che avranno voglia di tenerezza, e romanticismo. Lavoro. Buona giornata per progettare trattative e affari. In arrivo cambiamenti, che riguarderanno la vostra attuale posizione. Sagittario. Amore. Oggi sentirete il bisogno di aprirvi, di confidare i vostri pensieri, di comunicare con gli altri. Cercate di vivere questa giornata con il partner, lontano dalle preoccupazioni. I cuori solitari, alterneranno emozioni romantiche, ad un eros che sarà difficile tenere a bada. Lavoro. Giornata eccellente per progettare ottimi accordi, scovare nuovi clienti, e mettere a punto iniziative particolari. Capricorno. Amore. Grazie al favore dei pianeti, oggi scoprirete emozioni molto profonde, stabili, e durature, che faranno bene al cuore. La routine vi appaga. Lero soffrirà ai single piaceri intensi. E tante novità, anche nuovi incontri fatidici per il futuro. Lavoro. Buone prospettive per mettere a segno nuovi progetti, ottimo momento per affari, e investimenti. Acquario. Amore. Le vostre emozioni oggi saranno confuse, e contraddittorie, e non saprete cosa dire. I problemi nel rapporto di coppia aumentano, ma tenete duro. Il cuore dei single oggi batterà forte per una persona, in arrivo segnali di gioia, e apertura totale. Lavoro. Il passaggio di mercurio in ariete, potrebbe portare vantaggi sulla vostra situazione professionale. Sarete diretti, e comunicativi. Pesci. Amore. Vivrete lamore a due velocità. Da una parte venere vi promette emozioni uniche, e tanto romanticismo, dallaltro marte, spingerà verso la tensione nervosa. I single dovranno essere prudenti, potrebbero emergere desideri insoliti, e inconfessabili. Lavoro. Ottime occasioni per migliorare le entrate, un colpo di fortuna, potrebbe capovolgere la vostra situazione. Lavoro. Se il video ti è piaciuto metti mi piace, e iscriviti al canale per ricevere gli aggiornamenti. like. Lavoro. A lavoro. Grazie a tutti.